Ciao e benvenuto su Elenco Prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori cuffie per DJ. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista CE Audio Tecnica M50X Le cuffie professionali da studio di registrazione audio tecnica ATH e M50X offrono una chiarezza eccezionale e una risposta in frequenza estesa. Il design dei padiglioni è ottimizzato per ridurre i suoni esterni, permettendoti di concentrarti sul tuo mix. Il design chiuso indietro fornisce un suono naturale che è ideale per studio trekking e miscelazione, così come il monitoraggio DJ. L'isolamento acustico è anche eccellente per le prestazioni dal vivo e gli ingegneri audio apprezzeranno la capacità di sentire accuratamente ciò che viene registrato o riprodotto. Le ATH-CM50X contengono una cavità voluminosa con uno spinotto di 3,5 mm di spessore e un adattatore di 6,3 mm di spessore. Questa costruzione consente una buona trasmissione delle basse frequenze, rendendo le maniche adatte a un'ampia varietà di stili musicali. La qualità della costruzione è eccellente e i materiali utilizzati sono di altissima qualità, dalla pelle morbosa alle conchiglie increspate. Questi auricolari sono costruiti per durare. Quarto posto abbiamo Pioneer DJ, HDJ. Le cuffie Pioneer HDJ 700 UW DJ sono progettate per i DJ professionisti che vogliono ascoltare la loro musica con maggiore chiarezza e dettaglio. I padiglioni sono realizzati in alluminio leggero ma resistente e l'archetto è regolabile in modo da poter trovare la misura perfetta. I padiglioni sono rivestiti in morbida pelle proteica, che aiuta a mantenere le orecchie confortevoli anche dopo lunghe ore di utilizzo. Le cuffie sono dotate di driver da 50 mm che offrono un suono chiaro con bassi potenziali e il design chiuso aiuta a ridurre il rumore ambientale in modo da potersi concentrare sulla musica. Le HDJ 700 UW sono perfette per i DJ che vogliono far girare la propria musica con grande attenzione ai dettagli. I polsini per DJ Pioneer HDJ 700 UW sono progettati per i DJ professionisti che vogliono eseguire la loro musica con grande cura e attenzione ai dettagli. I diffusori sono realizzati in alluminio leggero ma resistente e l'arco può essere regolato per trovare l'impostazione perfetta. Numero 3. Abbiamo Sennheiser HD25 Sennheiser HD25 SP seconda cuffia chiusa dinamica Le cuffie HD25 SP chiuse sono una nuova versione dell'originale. Molto apprezzato Sennheiser HD25 cuffie che sono stati utilizzati da DJ e professionisti della musica per anni. Queste cuffie versatili sono dotate di comodi padiglioni imbottiti e un archetto regolabile per garantire una vestibilità perfetta mentre il design robusto assicura una lunga durata. Un cavo a un solo lato con un connettore da 3,5 mm è incluso nella confezione così come un adattatore da 6,3 mm in modo da poter utilizzare queste cuffie con attrezzature professionali. Le cuffie HD25 SP sono progettate per produrre un suono chiaro e preciso con un ampio spettro di frequenze che copre tutti gli strumenti musicali. Il design chiuso impedisce al rumore di uscire all'esterno consentendo ai musicisti di concentrarsi sul proprio mix. Queste cuffie sono perfette per le esibizioni dal vivo, gli studi di registrazione e le cabine DJ ma possono essere utilizzate anche per l'uso quotidiano. Numero 2 Abbiamo V-Moda Crossfade Crossfade M100 Master di V-Moda è una cuffia professionale con isolamento acustico che offre bassi profondi e potenti e alti cristallini. La cuffia presenta un design elegante e moderno con un archetto regolabile per una vestibilità perfetta. La sua solida costruzione in metallo gli conferisce una durata superiore e i suoi cuscinetti auricolari in pelle. Proteica ibrida a multistrato li rendono estremamente comodi da indossare per lunghi periodi di tempo. Con il loro design pieghevole, queste cuffie sono facili da trasportare quando sono in viaggio. Vengono anche con una custodia rigida in alluminio. I Crossfade M100 Masters di V-Moda sono un prodotto ideale per chi cerca qualità professionale e comfort. I bassi potenti e cristallini rendono questi bracciali perfetti per l'ascolto di musica, la riproduzione di film o la semplice lettura di libri. I Crossfade M100 Masters di V-Moda sono un prodotto ideale per chi apprezza la qualità professionale e il comfort. Per finire, il numero 1 della nostra lista è Pioneer DJ HDJ. Costruito per i DJ, queste cuffie professionali sopra l'orecchio sono progettate per offrire un suono di alta qualità e una vestibilità confortevole. Sono dotate di un singolo cavo laterale che consente di indossare il cavo sopra la spalla o sotto il braccio. Le cuffie HDJ X7 hanno un design efficiente e leggero con un eccellente isolamento acustico in modo da poter godere di suoni accurati e concentrarsi sulla musica. Le cuffie HDJ X7 sono dotate di cuscinetti morbidi sostituibili e tre diversi passanti per adattarsi alle diverse dimensioni della testa. Il design dei polsini comprende anche un arco regolabile che consente una vestibilità sicura e confortevole. Queste cuffie sono progettate per i DJ che desiderano un suono di alta qualità e una vestibilità confortevole. Sono dotati di un cavo unilaterale che si può indossare sulla spalla o sotto il braccio. Le cuffie HDJ X7 hanno un design leggero ed efficiente con un eccellente isolamento acustico che consente di godere di un suono preciso e di concentrarsi sulla musica. Verrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante Mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri.